no ma che volo gli ha fatto fare già già e già era mezzo stroncato coraggio bella fiavina stecca la occasione importante il karma colpisce certo e colpisce che allo aiutato porca troia mila che era giustamente ha fatto un gran gol e vena che mentre calciava voglio faccio il cucchiolo da spagnolo da spaccato gli assegnati e c'era c'era è vero è vero impegno attenzione oggi raggi possiamo far male ma ci bella diamo cazzo live in carali mister max 1 a 0 2 a 1 ebbe il mister vuole assist di estrema no no ma ragazzi quando prima ne è arrivata la palla io l'ho rinviata di prima ma non su tutte le a caso venivano 6,4 e se da 6,7 subito proprio subito tira 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 non c'è bravo 7 bravissimo ragazzi bisogna vincere la partita per promuovere usciamo Grazie.